In Abruzzo le imprese agricole guidate da donne sono 15.545, pari al 35%, quasi 4 punti percentuali sopra la media nazionale che si ferma al 31,5%. Un dato che fa dell'Abruzzo la quinta regione in Italia per incidenza di donne in agricoltura. È stata l'analisi di Abruzzo Penopolis a realizzare il censimento per il settore, dati significativi anche in vista della giornata internazionale delle donne rurali, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, con lo scopo di riconoscere il ruolo cruciale svolto dalle donne nel garantire la sostenibilità delle famiglie e delle comunità rurali. Le donne contribuiscono in modo significativo alla produzione agricola, alla sicurezza alimentare, alla gestione del territorio e delle risorse naturali. Hanno svolto sempre un ruolo centrale in questo settore. È fondamentale riconoscere il loro impegno e promuovere l'uguaglianza di genere nel settore. Lo dichiara la Presidente dell'Associazione Donne in Campo C. Abruzzo, Anna Maria D'Alonso. Per quanto riguarda i giovani under 45, invece, nel 2020 erano in tutto 4.583 le imprese registrate in regione, pari al 10,3% del totale. A differenza dell'imprenditoria femminile, in questo caso siamo di fronte a un dato inferiore rispetto alla media del Paese.